La Virtus vince a Marcellona e compie una vera e propria impresa. Sale peraltro a 16 punti in classifica ad appena due punti dall'ottava posizione che vale i play-off. Certo, in coabitazione con tanti altri, quello che volete, però intanto 16 punti non sono pochi a questo punto, in questa prima avventura, nella massima competizione europea. L'Unberg su tutti, 20 punti, grandissima partita, Ojeleje 14. Ma non dimentichiamo quel pizzico di Teodotic che ha innescato con due assist magici Bacó, che ha messo una tripla fondamentale quando i catalani si stavano riavvicinando. E' in assoluto un collettivo che ha funzionato benissimo, in particolare con un impatto difensivo veramente entusiasmante. Ma evidentemente anche noi giornalisti non siamo pronti per la massima competizione europea. Siamo abituati a dare dei giudizi che ci appaiono definitivi e poi in realtà veniamo regolarmente smentiti. Dobbiamo imparare a stare, tra virgolette, un po' più zitti, perché qui le cose cambiano da un giorno all'altro. Certo, la Virtus è in un ottimo momento in Eurolega, aveva appena battuto il Fenerbahce, dopo peraltro delle vittorie con Alba e con Maccabi, in mezzo alla sconfitta con Vasconia. Però aveva messo molta paura quella batosta casalinga con Milano, meno 22. E invece, ecco qua, cambia completamente lo scenario in un Amen perché la squadra si compatta. Non c'era Lundberg con Milano, ma era un giocatore che viaggiava a 9,2 punti partita. Stasera ne ha fatti 20. E poi in assoluto mi sento di poter dire che la Virtus ha messo in campo un'altra faccia. Viene da dire il Barcellona sotto tono, ma ogni tanto ci sarebbe anche l'altro che ti mette in condizioni di non giocare al meglio. E quindi, per quanto mi riguarda, questa sera si fanno solamente complimenti alla Virtus. E attenzione anche in ottica mercato. Non sappiamo cosa accadrà per quanto riguarda il possibile acquisto di Polonara. La voce che è arrivata, e ve lo posso garantire, molto diretta dall'allenatore dell'Efes, che ha parlato con il mio collega Luigi Balduini nel corso della trasmissione radiofonica, Radio Basket 108, Tris Dijek, ha detto semplicemente che tra tre giorni si vedrà se partirà. Quindi l'affare non è fatto. Però attenzione, se non c'è una wildcard per la prossima Eurolega, pensarci bene se prendere un giocatore importante che sposti gli equilibri, perché se le cose vanno così, la si potrebbe anche guadagnare sul campo. Qualcuno potrebbe dirmi, giocando così, anche con quelli che ci sono.